bentornati in questo nuovo video dedicato a gcad versione 2024 e oggi vediamo come poter gestire i file di salvataggio in particolar modo mi è stato chiesto da alcuni di voi come se gcad permette quindi di lavorare ed esportare nel formato per autocad il formato autocad formato dvg è possibile tranquillamente esportarlo perché gcad è proprio nativo del questo formato il formato dvg e formato dxf se adesso prendo questo disegno e quindi lo vado a fare un salva con nome mi permetterà quindi di scegliere i formati dxf o dvg difatti l'ultima versione di dvg rilasciata da autocad quindi da autodesk insieme anche tutti gli altri cad tranquillamente il formato dvg 2018 lo stesso discorso vale anche per il formato dxf che è fermo attualmente con l'ultima versione a versione 2013 ma questo vale per tutte le modalità di salvataggio anche per autocad quindi ho la piena compatibilità del formato dvg dxf inoltre gcad mi dà la possibilità di poter salvare nel formato dgn di sketch up e altri formati come dvf che quanto riguarda appunto sempre in ambito di salvataggio vettoriale poi ci sono anche molti altri però quelli principali sono tutti completamente gestibili quindi tranquillamente noi possiamo operare col formato dvg 2018 e quindi operare anche può esportare anche per autocad